un miracolo hai detto che i miracoli hai detto no? hai detto? c'è arrivato il cangopo sette piani a pera è dovuta essere per forza un miracolo eh sì eh sì sette piani a pera comprovi un sacrificio o ce resta a chi l'amministratore Dolore ma tu che stai matendo qua? sto andando una manafratata no tu ti devi andare a costituire a costituire? ma fa me le primacine dall'amministratore no ma tu hai detto qua chi stai? c'è il tuo abbelardo abbelardo? eh e poi perché mi chiamo Dolore? ma avrà visto qualche telenovela spagnola scusate ma è buon sorriso e vada a fare la bella sciacquata e faccia ma perché mi devo attacquare la patta? ma perché tu devi andare a costituire qua? e tu che devi mettere qua? ma non dicevo che mi hai lasciato qua siete in Parigi e stai andando al portiero mamma mia mamma mia no 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 io non ce la faccio più avete capito? mamma mia no io ci ho detto l'amministratore quasi non accoglio a scensore io mi ronco con me là mamma mia affondo affondino tu te ne devi capare è venuta Don Natunta a reclamare il cuoreno te ne devi capare ma che come c'è la lingua? cuoreno che lo stai ancora morti sui non provate qui ci fai scherzi avete capito? eh figlio mio non esagerare ci hai fatto esagerare la pepe di lavoro di lavoro ma basta avete fatto l'osso però parentello che siete venuti a portare la droga ma non di tanto e dove ci avete la scossa? non c'è meglio non c'è niente come siamo? eh scusate la compagnia è bella però io adesso devo andare a bascia perchè tengo la santa e il capo a fuoco eh se mi sembra un po' che... no tu per il mercato è tutto è un sangio oggi è tutto meglio eh adesso un'ora tre ti volevo ruminare un po' che c'è la facenza adesso ma tu puoi eee chi l'è da ruminare un mese sano eee eee ma tu si stanno scegliere eee forse le ha le ha una qualcosa amica e chi ha una cucina pure che affonta ma poi i paligio e i paligio e i pigli tu e a fondo si 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 ma mi fai stressare a me che già so fissare e io che ho fatto e io che ho fatto e io che ho fatto tu 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 tassetto ti ti ha vista stancato? no tu fai una bella partitella a cazzo no 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 pieno di pettone cattive, di cammottita di delinquanti a tattini, come era, era vero perché trattava a mio fratello Taverio, mio fratello Affondino, le mie cognate Amalia Adolorata, parlava di camorra, e va bene, facciamoci una bella mattina all'accante, bene qualcuno vuole toccare? tutti impegnati, e va bene, giochiamo come al solito, buon gioco, due napoletane, doppio buon gioco, doppio buon gioco, doppio buon gioco, e allora è stato veramente un togno, perché ora dovevo tentare, buon gioco tre assi, buon gioco tre assi, e allora è veramente un sogno, significa che la camorra è veramente un brutto togno, e non è la realtà, ma non è un gioco, ma non è un gioco, ma non è un po' ma ci devo andare io e non ci potete andare tu non ti preoccupare ci vado io ci vado io e la buccia è il topo l'era tu e tutto quanto ma voi siete? io voglio Alberto ci sta qua Alberto e ci sta Alberto venite perseguitemi ma te i compagni tu vado a prendere? chi ti vede? l'assicuratore è sparadita ma questo assicuratore non li apriamo qui 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 già devi aspettare tu mi stai facendo perdere la macchina dì 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 da questa casa in modo amiche forza amichevo come una vittore di te vattene per me ti 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 e la ripingo ma io non te l'oro oggi? è enorme ma io non te l'oro? non è te? dove gli vengo? a me non mi interessa a me è importante che mi venga Ma io non ne tengo, dove ripeto? Perché? Eh, ma ti è piaciuto a prendere noi a chiedere un prestito per giocare? Sì. Io guardo? Sì. Io penso? Sì. E ora mi ha risolto? Ma dove ripeto? Sì, ma è vero che mi chiamo un uomo alla mente. Sì. Vieni qua, a picci tutta la casa. No, no, no. A picci prima con te. Sì. E poi che cugnato mio? No, 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 la famiglia è cugnata, l'altadetta è cugnato mio. Come si dice? Quando mi sembra, non si chiama. Amari. Eh, quando si chiama, come si chiama? E poi, come si chiama? Adà… 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 Adatto! Vedi che siamo quasi pronti! Adatto! 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 è meglio che me ne vado voi volete stare con la famiglia è bella stacca la famiglia ma ti vuole bene si vede che ti vuole bene ti chiamo amici albertù non basta un bagno a la canoscia ci vorremmo andassi qua siamo la casa è sempre aperta statevi bene e buon appetito buon appetito a proposito salvatemi il cugnato è il cugnato nostro è il cugnato solo salvatemi ma che ci stanno facendo? che? la sapo o no? è una volta di impotentare ma ci hai presentato tu? papà comunque fammi adesso che la pasta è pronta io vedi che ti stanno aspettando fammi adesso ma allora non è stato un donno vuol dire che la camorra non è un donno è la realtà Tavereo Tavereo oh che dè? tendi una cosa ehi ma tu come pinta? come pinta? come pinta? come pinta? come pinta? eh? na java go come pinta? 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 come pinta?